I protocolli di sostenibilità energetica sono dei sistemi di valutazione della sostenibilità degli edifici. Rispetto alle certificazioni energetiche che si limitano a fare una fotografia dei consumi, dei fabbisogni energetici di un edificio, offrono un sistema di valutazione più olistico che prende in considerazione diversi aspetti, quali ad esempio l'utilizzo di risorse, il consumo del suolo, la qualità e il comfort degli ambienti interni e l'impronta energetica dei materiali. Tuttavia vi sono ancora una serie di limiti alla diffusione capillare di questi tipi di protocolli, in quanto la loro complessità, la varietà di criteri da valutare rende piuttosto oneroso da parte dei progettisti e dei tecnici la loro applicazione. Inoltre riguardo ad alcuni specifici indicatori non sono presenti dei dati di riferimento che permettono di effettuare la valutazione in maniera completa, come per esempio per quanto riguarda l'impronta energetica dei materiali, molte schede di prodotto non hanno questa informazione. L'ultimo punto che limita l'applicazione diffusa sul territorio è la mancanza di un'armonizzazione tra i protocolli a livello degli stati dell'Unione Europea e in questa direzione, cioè verso l'armonizzazione, va proprio l'iniziativa SESBA che si pone come obiettivo quello di definire un sistema di valutazione che sia condiviso tra gli stati dell'Unione Europea e che riporti una serie di indicatori chiave comuni a tutti i protocolli di valutazione.